Adesso incontriamo una squadra che da 3-4 anni più o meno che fa delle cose buone in questo campionato allenata da un allenatore che mi sa che è 2-3 anni se non di più, che allena la stessa squadra. Quest'anno magari, anche negli altri anni, però magari quest'anno sono partiti pure con qualche ambizione in più e che a mio avviso hanno una squadra forte sia nel collettivo che nei singoli e quindi una partita come tutte le partite da affrontare con il giusto piglio. Ci siamo partiti bene, abbiamo subito pochi gol anche se qualche occasione l'abbiamo lasciata agli avversari magari siamo stati più determinati o non lo so, però io vedo una squadra, una squadra del collettivo non è solo la difesa, quando tu non riesci a prendere gol è un po' il merito di tutti perché se difendessimo solo in quattro qualche gol secondo me lo prendiamo. Quindi siccome vedo uno spirito collettivo ottimo, se continuiamo così magari più tardi possibile prendiamo gol ma diciamo che il risultato lo otteniamo con lo spirito di gruppo, magari col passare delle giornate giocando un pochino meglio, fraseggiando un pochino meglio, però io penso che siamo sulla strada giusta.